E la più classica sfida nel solco del bipolarismo, quella di Lanciano, dove centrodestra e centrosinistra si affrontano al ballottaggio per la carica di sindaco. Filippo Paolini, già primo cittadino per due mandati in passato, contro Leo Marongiu, presidente uscente del Consiglio Comunale. Un testa a testa che vede in vantaggio, secondo i dati del primo turno, Paolini, che ha sfiorato il 50% dei voti, mentre si è fermato poco sopra il 42% delle preferenze Marongiu. Ma proprio la manciata di schede che non hanno consentito al candidato conservatore di vincere nella prima tornata e il successivo controllo chiesto dal centrodestra potrebbero tenere subiudice il risultato. Infatti Paolini è intenzionato a fare ricorso anche se auspica una vittoria sul campo. Prendiamo, faremo copia conforme degli atti, quella relativa ai sindaci già l'abbiamo acquisito perché la copia va assunta in comune e dopo insieme agli amici, valuteremo se preparare o meno questo ricorso. Ricordo che ci sono 30 giorni da quando c'è la pubblicazione di questi dati, adesso pensiamo a domenica e lunedì, bisogna tornare a votare, questo ci interessa, fondamentalmente ci interessa vincere sul campo. L'obiettivo del centrodestra, che non ha fatto apparentamenti, è riportare gli elettori alle urne e convincere gli indecisi. Penso che uno strumento così importante come quello del voto è l'unica forma, espressione di libertà che ci è rimasta, per cui io mi auguro che tornino a votare anche tutti quelli che l'hanno fatto nel primo turno e che naturalmente vadano a votare anche estensionisti. Nello schieramento che appoggia Leo Marongio nel frattempo, ampliatosi con l'ingresso dei Cinque Stelle che hanno fatto l'apparentamento, c'è fiducia nel ballottaggio. L'obiettivo minimo di accedere al secondo turno è stato centrato, seppure per un soffio. Per il centrosinistra dunque la partita per riconquistare il comune per dieci anni a guida a pupillo è apertissima. Assolutamente sì, l'obiettivo era lasciarli un voto sotto il 50%, ci siamo andati molto vicini perché dopo al secondo turno, al ballottaggio, la gara è completamente diversa, il voto si libera, non ci sono più relazioni pericolose, relazioni clientelari, amicali, parentali. Dove cercherete di convincere i lancianesi a votarli? Innanzitutto sulla motivazione e sulla velocità di esecuzione dei progetti che stiamo raccontando alla città. Vedete, mentre da una parte c'è chi continua a raccontare appena vincerò le elezioni, se le dovessi vincere entrerò al comune, verificherò la macchina comunale, parlerò con i dirigenti, metterò tavoli, io sto dicendo tutt'altro. Appena vinciamo ci impegniamo subito su quattro temi importanti, lavoro, salute, barriere architettoniche, grandi eventi per i più giovani e soprattutto la risoluzione dei problemi dell'acqua.